Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente a questo nuovissimo video oggi siamo qui per parlare di una questione veramente veramente molto seria io stamattina ero come ogni mattina a fare la colazione quando a un certo punto mi arriva una mail perché era molto tardi, mi sono svegliato per le 10, 10 e mezza ho fatto la colazione mi arriva una mail da Google News che è un'applicazione che mi serve per vedere le notizie che mi dice che il ponte di Cornigliano che è praticamente la città fianco alla mia anzi è la città fianco alla mia è crollato l'autostrada a 10 che collega Genova a 20 miglia è crollato il ponte in mezzo al Polcevera con... vabbè non mi ricordo esattamente come si chiama il fiume comunque è crollato nel fiume e la cosa peggiore ragazzi è crollato addosso delle persone cioè le persone che abitavano lì oppure dei magazzini perché è crollato sopra dei magazzini ha delle case e ha tanta gente che viveva lì ora io voglio spendere le mie due parole anche nel mio piccolo perché comunque avrò pochi iscritti ma quello che lo dico seriamente sono veramente triste per quello che è successo anche perché pensate di quei poveretti persone che la mattina sono svegliate col temporale pensando che fosse un tuono e invece era il crollo di un ponte intero anche perché poi ragazzi vi metterò molto probabilmente una foto per chi non sapesse che cosa sia successo perché magari abita al sud molto sud mi posso dire semplicemente che ha un ponte enorme che non hanno praticamente mai curato perché sinceramente quel ponte avrà più di 40 anni non è mai stato curato bene e fanno dei lavori da tre mesi prima che partissi io da Puglia cioè due mesi e mezzo fa non c'erano ancora i lavori sono tornato e c'erano ancora vedete cosa succede poi alla fine non fare i lavori questo succede io non mi sto lamentando cioè per carità non mi sto lamentando con nessuno l'unica cosa è che dico un po' di cura per i nostri servizi cioè pensate a quel poveretto che era in autostrada col camion e stava andando e gli è crollato il ponte davanti alla faccia cioè anche perché è un ponte che è alto una sessantina una quarantina di metri buoni le è alto quindi pensateci un po' una cosa che voglio dire ragazzi molto importante è che se siete di non lo so Genova Sestri oppure siete di Campi oppure Genova Centro ecco vi consiglio di rimanere a casa almeno per un paio di giorni fidatevi di me c'è gente che la prende solo scherzare ma non dovete scherzarci assolutamente perché ci sono in gioco delle vite sono morte più di 20 persone e non ha cosa da scherzare anche perché ora posso dirvi la verità io ho scoperto la notizia più o meno alle 10 e mezza noi abbiamo un gruppo di classe dove io praticamente dove scriviamo tutti quanti delle cavolate io la mattina non ho mai scritto su quel gruppo lì non ho mai scritto dico la verità ma mi sentivo in dovere di farlo infatti visto che sono stato il primo della classe ad avere la notizia ho scritto subitissimo di fare attenzione anzi ora vi leggo esattamente come ho scritto così niente polemiche vi leggo parola per parola comunque come posso dirvi ci sono rimasto veramente scioccata anche perché poi la notizia al telegiornale è arrivata veramente molto tardi io qui aspettavo subito invece è arrivata tipo un'ora e mezza dopo cioè mi sono rimasto veramente male perché se lo stato italiano cura le cose così allora uno non può neanche andare a scuola perché fa il paura che gli crolli in testa al soffitto vabbè aspettate ora vi leggo quello che ho scritto allora erano le 12 e 10 avevano appena la sua notizia e io ho scritto ragazzi è un'emergenza e poi ho mandato una foto appunto di quello che era successo che mi aveva mandato un mio amico e gli ho scritto è crollato il ponte e l'autostrada di Cornigliano l'autostrada è inutilizzabile è crollato su delle case e rimanete fermi in casa non mi uovete non ci sono dei feriti e io ho scritto proprio testuali parole vi dico soltanto ad avvertire quelli che sono sulla 10 cioè se mettete un padre il padre di uno dei miei amici che va sull'autostrada e rimane ribloccato perché non lo so non lo fanno andare avanti o peggio ancora crollato dal ponte infatti ho scritto subito di avvertire tutti ho scritto anche che il ponte era in gravissime condizioni perché rischiava di crollare anche la parte dietro perché quella parte lì era sospesa ma i chiavi ho visto che erano molto molto tesi potevano cadere anche la parte dei chiavi e sai cos'è la cosa che mi ha fatto veramente la cosa che mi ha fatto veramente tristezza che molta gente sul gruppo ci scherzava su queste cose scherzava sulla vita umana cioè io non per fare il cattivo però ragazzi cioè seriamente dico per tutti perché quelli che mi scriveranno avranno o la mia età o di più anni ma quello che voglio dire è che avete un po' di buonsenso pensate alle persone che erano lì che la mattina sono svegliate sotto le marcierie o magari non sono proprio più svegliate affatto solo perché lo stato italiano non cura le cose scusate ragazzi se questo video non sarà tanto editato ma nel mio piccolo volevo anche io dare la dire quello che pensavo anche perché abitando a una un chilometro neanche sia un chilometro di distanza dalla città dove è successo tutto spero che non succeda veramente mai più una cosa del genere e mi auguro anche che lo stato italiano tenga di più alle cose ai servizi più che altro che noi paghiamo pure perché noi paghiamo per vivere bene allora perché succedono ste cose ragazzi spero che questo video esca molto presto dovrei farlo uscire più o meno il 15 per agosto credo se il video vi è piaciuto mettete un pollice su fatela non fatelo solo per me fatela anche per le persone che poveri hanno perso la casa se invece non volete marlo non mi importa avete almeno un po' di cuore per queste persone che hanno perso la vita per una cosa veramente stupida e anche per tutte le persone che sono veramente ferite ma in gravissime condizioni in gravi condizioni quello che vuol dirvi è questo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto io vi posso dire ciao